Cioè tenendo presente, ripeto, l'altro giorno qualcuno l'ha visto come un gesto esibizionistico il fatto che io sono andato a mare, sembrava la risposta a vecchione, ma io proprio di vecchione non me ne frega assolutamente nulla, io ci vado ogni anno a dicembre a mare, regolarmente da sempre e ci vado da aprile a dicembre e magari nei periodi più freddi che saranno gennaio e febbraio mi butto con la muta, una muta leggera da sub che mi permette di nuotare, però io non l'abbandono cioè voglio dire, si rimane, certo uno che sta a Milano, ieri mi chiamava la BBC su questo bagno a Castel di Tusa e loro naturalmente, uno è scioccato, io ho vissuto a Bruxelles dove a dicembre c'erano meno 20 e infatti ogni volta quando andavo dalla Sicilia a Bruxelles io partivo con più 20 arrivavo a meno 20 e in una giornata mi facevo un'escursione di 40 gradi immaginarsi se temo di entrare in un acqua che ha 20 gradi